a la vita quando la cerchi quando la tocchi per mano la sofferenza e la malattia sentendoti pure egoista la paura fa tremare e la mente viaggia questo l'ultimo post su instagram di carlotta desi la giornalista mediaset dal talento genuino aveva capito anche lei di avere poco tempo da vivere dall'agosto scorso infatti aveva scoperto di essere malata in pochi mesi le sue condizioni erano precipitate nonostante le cure immediate l'amore della sua famiglia del suo fidanzato dei suoi cari e dei colleghi carlotta però non ce l'ha fatta e nel pomeriggio di ieri martedì 6 febbraio a soli 35 anni se ne è andata e la notizia dolorosa è presto arrivata anche sui social la giovane era un volto noto di diversi programmi mediaset da mattino 5 pomeriggio 5 fuori dal coro per la trasmissione infatti di mario giordano aveva anche condotto alcune inchieste molto apprezzate di recente con grande forza e coraggio la giornalista era andata ospite nel programma in cui era stata negli ultimi anni inviata è stata l'ultima sua volta in tv una specie di congedo non era infatti nelle condizioni migliori ed era sottoposte a cure pesantissime e ieri arriva la tragica notizia a soli 35 anni carlotta de si non ce l'ha fatta